Io sono l'avvocato Franco Lione, sono andato a Roma nel lontano 1939, in teoria sono un pensionato, in pratica sono un operatore attivo nel settore del diritto. Da quando io ho costituito nel 1996 la società Assenfort, che all'epoca aveva sede in direzione generale a Praga e successivamente abbiamo costituito un ramo che è la Assenfort Slovacchia, che ha sede presso la Camera di Commercio. Da allora abbiamo trattato circa 4.000 pratiche, sono pratiche di assistenza legale che si vengono svolte in tutta Europa. La nostra società è più che altro un'associazione di avvocati, circa 160 avvocati in Europa, collabora sotto il coordinamento mio. Quindi abbiamo degli uffici fissi nostri a Praga, a Bratislava presso la Camera di Commercio, in Italia e in Albania.